La provincia di Arezzo nuovamente imbiancata, la neve era infatti attesa per queste ore e non si è fatta attendere. Qui ci troviamo a Civitella in Valdichiana, ma i fiocchi sono scesi anche in tutte le altre vallate. La situazione al momento non sarebbe critica, non si registrano infatti disagi dovuti a quest'ondata di maltempo, anche se le abbondanti nevicate si sono registrate in tutta la provincia. In Valdichiana, come sempre, i fiocchi più copiosi sono caduti nelle colline cortonesi a Civitella, nevicate anche a Monte San Savino. In Casentino abbondanti precipitazioni a Prato Vecchio Stia, Castel San Nicolò, Laverna, Camaldoli e Badia Prataglia. Neve anche in Valdarno, in Biancate, Cavriglie e Montevarchi. In Valtiberina la nevicata più robusta invece è toccato Bagliate d'Alda e Sestino. A causa delle abbondanti nevicate sempre in Valtiberina sono state chiuse ai mezzi pesanti la Marechiese e la strada provinciale 50 che porta da Pieve Santo Stefano a Via Maggio. Pochi, anzi pochissimi, fiocchi caduti in città. In biancata invece la periferia aretina, abbondante la nevicata registrata a Palazzo del Pero. Attivo a pieno regime il piano neve della provincia di Arezzo. In azione operatori, mezzi spalaneve e spargisale. Il maltempo non ha comunque intenzione di dar tregua nemmeno nelle prossime ore. La sala operativa della regione toscana ha infatti diramato un'allerta meteo di codice giallo su tutto il territorio regionale sin dalla mezzanotte di giovedì 31 gennaio.